Anche quest'anno IRIGEM, l'ente di formazione professionale, si distingue con le classi seconda e terza multimediale al concorso Nardini Viscidi, un evento con al centro l'importanza della donazione di organi a sangue grazie all'impegno del reparto donatori di sangue Montegrappa. Premio andato anche agli studenti dell'ente di formazione IRIGEM di Rosà, appunto, che hanno elaborato prodotti multimediali con grafiche e video emozionali e altamente suggestivi, finalizzati al racconto e alla sensibilizzazione. Un modo in più per sottolineare l'importanza del dono e la ricchezza che ne deriva in chi lo fa e in chi lo riceve.